ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video barra altro video blog come state spero bene allora sto dicendo un altro video per vedere un po conviene lo sto facendo in hd sperando che venga bene perché veramente è una cosa allucinante non so neanche come girare i miei farsi video perché escono un po tutti così quindi non ho idea sperando che a voi possano piacere sti video così fatti alla rinfusa alla me ne frego però a me piace fare video senza modificare senza niente e niente quindi volevo solo sapere sempre questi video vi piacciono o meno fatemi sapere vostri commenti innanzitutto mettete un bel like di supporto a questo canale youtube mettete un commento e fammi sapere un po come se vi piace o meno se devo cambiare qualcosa è attivata la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale youtube e niente ha seguito i su tic toc instagram e facebook innanzitutto a se mi chiedete le mail chiedetemela in privato perché l'email quando la metto perché tanto non collaboro con nessuna azienda almeno che non sia youtube ma poco poco ci spero devo dire la verità niente grazie ragazzi io oggi volevo fare altri video di motivazioni come un altro video ma non so ancora come farli perché mi devo abituare a fare video in modalità full hd hd o 4k non ne ho ancora idea io non ci capisco tutte queste attrezzatura di tutte queste modalità cioè dietro le quinte c'è mi piace montare video ma non so bene imposta la telecamera quindi è tutto un macello è tutto un macello quindi vabbè no comment e niente allora aspettate che qua non so ancora come sia la risoluzione del video c'è non la risoluzione la luminosità voglio provare un po a vedere se vi vedete un po meglio ecco qua pare che mi vediate meglio ma io ne sono tanto c'è quando avevo poco mi si fanno delle lineette qua al di saliva agli angoli della bocca non è un bel vedere e fa anche cadare a schifo c'è anche un canale youtube possiamo youtube fa già è così ragazzi è troppo da ridere non si dicono le parolacce non si dicono la parolacce però è la verità c'è un canale youtube che lo dice si chiama così perlomeno perché girando in giro bazzicando per youtube ho trovato sto canale che pare che esista sul serio poi 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 ha visto rifatta non so quante volte lo dirò perché non so se riesco a quello col video di youtube qua su youtube invece che diciamo questo allora mi hanno informato alle sopracciglia che non so quanto si possa vedere e poi ho messo un po di buono account null'altro volevo dirvi niente che dopo questo video ce ne sarà un altro di prodotti più definiti perché sennò veramente si fa troppo tardi non riesco a girare altri video ma va bene così a per quelli che stanno aspettando il video smr non preoccupare mi devo organizzare perché non le faccio di giorno le voglio fare di notte che c'è più silenzio non so se riuscirò a farli però ci voglio provare bacio ciao ragazze a dopo perdonate che chiudo da dietro perché qua non vedo cosa sto toccando ciao ragazze mettete like ciao documentary ciao 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 ok ciao 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 ti ciao Grazie.